Che strano, non mi era mai capitato prima, che sarà un motivo, fammi pensare. Il Venezia anticipato Castrati, Venezia 1, Cittadella 1 e il gol della promozione e la segna Riccardo Boccalone. Non vengono, non vengono la serie A, guarda come non do l'ho, guarda come non do l'ho, in serie A. Allo Le Monde, sabato 29 maggio 2021, allora, settimana importantissima, ricca di eventi, di gioie e di riflessioni. Quindi, allora, ogni città, ogni paesetto ha i propri personaggi, tipo gente bizzarra, gente un po' assurda, gente un po' fuori di testa. Tantissimi anni fa nella capitale, Ciosa, uno desti personaggi mi fa, il mondo va all'incontrario, mio fratello fume e mi ole ha tosse. Altro che fuori di testa, cazzo, e già erano i luci avanti, sto tipo qua, no, perché? Perché ieri, il 28 maggio, è stato il compleanno di una persona, di una delle persone più importanti della mia vita, a cui faccio tantissimi auguri, però ieri mi sono fatto un bellissimo regaio. Quindi, uno compie gli anni e un altro si fa regaio. Ma, qualche mese fa invece, mentre passeggiavo per Bassano insieme ai miei figli, no, abbiamo incrociato un personaggio fantastico, no, Beretto d'Alpino, Fular e tre cagnolini a guinzaglio. Il mio tesoruccio si ferma ad accarezzare i cagnolini e sto personaggio qua a me fa. Ho 79 anni, non ho figli, non ho mai convissuto con nessuna donna, però adesso me ne cerco uno e mi sposo. Cioè, che fago? Ma a me scusa un attimo, a 80 anni si vuole sposare? No. La risposta se sta questa. Eh sì, non posso mica essere felice tutta la vita. Cazzo, un grande, cazzo, un grande. Saria da fargli un monumento e dovrei tirar via il Cristo del Rio de Janeiro e fargli la statua Elio con i tre cani, no? E però, quello che mi ha fatto veramente riflettere, no? Che mi ha fatto pensare tanto, se sta la scena, una scena del Signore dei Tarzanelli. Fiamo vedere la scena del Signore dei Tarzanelli, se noi busiari, dice che sono busiari, eccolo qua, il Signore dei Tarzanelli. L'anello pervenne alla creatura Gollum, che lo portò nei profondi cunicoli delle montagne neppiose. E lì, l'anello lo consuma. Eccola qua. Mamma mia. Una creatura consumata dall'anello. Ostia. E niente, lì ho cominciato a pensare, no? Ho detto, mamma mia, cioè, quante volte che adesso andavi, sì, no? Cioè, in vita mia ho avuto anelli di tutti i tipi, no? Ma se sta regalata, anelli d'argento, anelli d'oro bianco, anelli d'oro giallo, anelli di legno, anelli che vibrava, eccetera eccetera eccetera. Però, mamma mia, dove ti metto gli anelli che vibrava sul Deo senza onza? Maialino. Vabbè, comunque, visto che finora nessun anello mi ha consumato totalmente, no? Mi sto ricordando che qualche fenomeno dice che mi diverto solito. Se faccio fatica, gli ho pensato quasi quasi, ciao, xina. Fiamo vedere xina, se noi busiari dice che sono busiaro. Ecco, da qua, il mio amore. E mi faccio un giro ad anello e vediamo se mi consumo, se mi consumo di fatica e divertimento. Quindi, per tutto il mondo, beglia, glia, glia, e ho l'uà. Anzi, mettiamola qua, guarda che bella che è affatto. Grazie a tutti. Allora, prima tappa marostica, facciamo vedere marostica, se noi busiari dicono che sono busiaro. Allora, c'è un detto, no, che fa, se lo metto non va la montagna, no, aspetta, no lo metto, ma lo metto. E se lo metto non va la montagna, ma lo metto va il mare. No, neanche così. Beh, se l'amico Luciano, volevo dire, non vi a trovare mua, mua va a trovare l'amico Luciano. Fiamo vedere l'amico Luciano, se noi busiari dicono che sono busiaro. Come ciao? Ciao. No, ciao. Gne, gne. Gne, gne. Eh, gne, gne. Ah, dopo, così, i followers, che guarda, che spie, che si informa, che vuole sapere dove vado, cosa faccio. E, visto che sono qua, ho pensato di venire a rompere i coglioni. Tu rotti i coglioni. Ti rotti i coglioni. Sì, buono, l'ha fatto. Allora, posso partire. Buono, posso partire. Allora, visto che l'altra volta l'amico Luciano mi ha pagato il caffè, anche stavolta mi ha pagato il caffè. Anche la prossima, magari. Eh sì, non vorrei mica che ti perdessi le abitudini, no. Guarda che amici che ti ha. Buono, salutiamo i invidiosi che devo continuare, il tou. Ciao, invidiosi. Fatto del mondo, gne, gne. E ho il W con A grande come la casa, cazzo. Ciao, invidiosi. Ciao, invidiosi. Ecco qua, seconda tappa Cittadella. Fiamo vedere Cittadella. Se noi busiari dice che sono busiaro. Allora, un messaggio per gli amici del Città. D'Affioi, mi dispiace davvero, chissà che venga bene l'anno prossimo. E un messaggio per Federico. Fede, mi dispiace ma sai come si dice? No, meglio a me che a te. Scusate, adesso mi hanno qui io fatta. Ne, ne, ne. Au revoir. Avanti. Terza tappa, Castelfranco Veneto. Fiamo vedere Castelfranco Veneto. Se noi busiari dice che sono busiaro. Ecco qua. Allora, pausa, merenda. Fiamo vedere la merenda. Mangiata. E adesso via, verso casa. Fatto del mondo, gne, gne. E au revoir. Come mangi, soli? Stai la banana? Oh, stavo mangiando i piedi. Non so perché. Oh, stavo mangiando i piedi. Oh, stavo mangiando i piedi. Allora, tornati a casa. Dopo quasi 70 km in giro ad anello per Marostica, Cittadella e Castelfranco. un piccolo giro, tanto per scaldare le gambe in vista di puntini puntini che ho idea di fare tra meno di un mese. Al di là di tutte le cazzate che ho detto e fatto, no, questo qua era un giro importante, pieno del significato. Solamente poche persone conoscono il vero senso di questo giro e gli ultimi chilometri mi sono fatti i tre, forse quattro all'ora, no, perché è cominciato a piovere e voglio pensare che magari dai a su qualcuno piangeva di gioia insieme a me, quindi mi sono goduto ogni singola goccia e niente, avvia tante cose da dire, però, finalmente se è tutto da due le spaglie e finalmente posso cominciare a guardare avanti. C'è una bellissima frase, no, che dice, quello che passa nel cuore, nel cuore resta e te lo porti dietro per tutta la vita, aggiungo, quello che non ti porti dietro è la tutta fuffa, patote del mondo e gne gne e orwa, anzi, serie A, cazzo, serie A, pii. Quello o Padovani, quanta invidaha, gne gne gne. Grigia 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 Nienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienien